Uno degli appuntamenti che ci fanno, tutti i nostri ospiti sono meravigliosamente selezionati e esaminati in base proprio al grado di comunità che sanno creare. L'ospite che state per vedere è veramente un'eccellenza, forse direi uno dei pensatori contemporanei più originali, più problematici nel senso intelligente del termine, come piace a noi. Essere problematici, c'è tanto bisogno in questo momento di essere un po' problematici rispetto alla tendenza che ci sta attraversando di aver fastidio per la riflessione. Ecco, qui, come avete notato, fastidio per la riflessione non ce n'è, voi siete veramente un pubblico che qualcuno se lo sogna, veramente se lo sogna. Serge Latouche, Maurizio Zaccaro con Giuseppe Antonelli. Grazie. 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 Comunque, Patrick Lemasson che ci aiuterà con la traduzione. Allora, buongiorno, bentornati, io sono sempre Giuseppe Antonelli, questo è il terzo e ultimo appuntamento di questo ciclo che si chiama Mezzogiorno di Fuoco, per quest'anno titolo chiaramente ironico, abbiamo avuto a che fare con tutti gli altri elementi, Mezzogiorno di Terra, Mezzogiorno d'Aria e adesso Acqua più o meno. Abbiamo parlato, abbiamo riflettuto, come diceva prima Marcello, nella prima giornata sul dire, ci sono stati qui insieme a noi Sergio Perrella e Antoni Libera, poi nella seconda giornata abbiamo parlato del non dire, abbiamo parlato del silenzio con Erwin Cagge, l'esploratore svedese Aurora, citato, e con Alessandro Zaccuri. Adesso direi il compito più difficile per Serge Latouche e Maurizio Zaccaro perché il tema di oggi è rivelare. Dunque dobbiamo riuscire a dare una rivelazione che forse non riguarda quest'oggi la verità, ma riguarda il tema della felicità. La felicità umana è il titolo del film che è stato proiettato fino a pochi minuti fa qui nella sala parrocchiale, un film di Maurizio Zaccaro, e sulla decrescita serena o la decrescita felice si concentra ormai da diversi anni la riflessione di Serge Latouche, la riflessione filosofica, antropologica, sociologica e economica di Serge Latouche. Io comincerei però dalla scintilla che ha fatto incontrare i due prima di questa giornata. Gli abbinamenti sono stati tutti decisi felicemente da Marcello. Questo è un abbinamento più rodato dei precedenti perché i due si conoscono già, si sono conosciuti credo in occasione proprio del film. Io ho visto nel blog di Maurizio Zaccaro una e-mail mandata da Serge Latouche, in cui Latouche faceva i complimenti per il film, e c'era però la figura di un elefante Latouche. Come mai quell'elefante? Allora l'elefante, non so se posso parlare, se mia moglie mi permette di dirlo perché è una cosa privata, che una volta, sono un po' un orso devo dire, e allora una volta lei mi ha detto, ma hai una sensibilità di elefante. Allora ho detto, sì sì, è vero, sono un elefante, l'animale più potente, anche che ha una memoria, eccetera. Allora mi è piaciuto molto questo. Ma se permette, prima volevo dire qualcosa sul linguaggio, perché coloro che hanno visto il film, detto che nel film, parlo in francese. E allora ieri sera ci siamo detti, ma in che lingua devo parlare? Perché c'è un traduttore qua, che non sono, normalmente mi ha detto, il pubblico si aspetta a sentirlo in francese. È difficile parlare francese davanti agli italiani, perché quando uno parla italiano mi viene subito l'italiano. Normalmente sono nato bretone, si vede dal cappello del marinaio bretone. E allora dovrei parlare bretone, e a fianco di me il traduttore anche lui è bretone. Quando ero bambino, giovane, in Bretagna, quando c'era un convegno o qualcosa, si cominciava sempre con l'inno bretone, e non voglio cantare tutto l'inno, è troppo lungo, farei solo la fine. E allora dovrei parlare? E allora dovrei parlare? noi britoni colonizzati dai romani e siamo stati deculturati ma al medesimo tempo siamo stati acculturati al latino, alla civiltà greco-latina e allora sono un latino e come latino parlo una lingua latina il francese o il spagnolo o l'italiano allora cercheremo di parlare penso che è meglio non arriverei a parlare francese perché come sono in Italia mi viene subito l'italiano ma se mi viene il francese farei qualche parola in francese l'alternativa avrebbe potuto essere Salimbasarda qui a proposito di Bretone Zaccaro, com'è nato il vostro incontro l'idea di coinvolgere Latouche nel tuo film? innanzitutto non si può pensare a fare un film come La Felicità Umana senza conoscere le persone senza incontrarle prima senza condividere con loro un percorso di conseguenza molto tempo prima di girare il film ci siamo incontrati a Pienza con Serge mi sono presentato semplicemente raccontandogli l'idea del film e tutti quando mi raccontavano l'idea del film mi guardavano come un pazzo dicendo come fai a raccontare la felicità umana che è una cosa impalpabile, inafferrabile non si può cogliere bene il significato e così ci siamo incontrati abbiamo parlato niente dopo lui ha accettato di fare questo intervento che non sono interviste il film dopo lo vedrete anche oggi pomeriggio alle 4 e mezza chi vorrà vederlo non è un film composto di interviste anche se sono frontali come vengono definite queste cose non sono interviste televisive contratte noi siamo abituati a vedere alla televisione specialmente nei documentari delle persone che parlano poi improvvisamente dopo 10 secondi vengono tagliate la parola passa a un secondo che parla per altri 10 secondi e a un terzo per altri 10 secondi e così viene tutto molto compresso se non si capisce mai un tubo di quello che viene detto ho preferito infatti con la tuscia e questo ne abbiamo discusso anche prima e questo gli stavo raccontando proprio a Pienza dicendo tu parlerai, racconterai per noi un incontro che faremo come degli amici e come altri amici si presenteranno nel film non sono persone potenti non sono persone politiche sono semplicemente quelli che io definisco dei liberi pensatori e di conseguenza sono tutte persone che conoscete conoscerete nel film io non è che posso portare il film sta viaggiando molto bene anche nelle scuole viene presentato ovunque in questo momento in Italia crea una forte empatia col pubblico perché queste persone sono poi gli amici del pubblico il titolo la felicità umana si parla in realtà nel film anche di felicità divina o comunque religiosa avrebbe potuto essere la felicità terrena dico per dire come mai questo titolo c'è stata ieri durante l'incontro del Mezzogiorno di Fuoco una rivendicazione dell'umanesimo il titolo nasce da una sollecitazione di un intervento dell'ex presidente dell'Uruguay Jose Mujica quando lui parla appunto e usa il termine proprio di felicità umana la felicità umana è garantire al futuro l'ambiente nel quale noi viviamo oggi in poche parole per lui questa è la felicità umana e per me è un rapporto molto importante che hai con l'ambiente e vediamo cosa succede nel mondo oggi da lì poi il discorso è chiaro che passa da un termine come felicità passa a un termine politico al termine economico e la tuscio su queste cose lui nel film lo spiega molto bene insieme a lui altri che intervengono Erman Olmi per esempio la racconta benissimo questa cosa il tuo maestro Erman Olmi il tuo maestro sì per dirla come Magrelli ieri quando parlava di cellule che si devono scendere ecco diciamo io posso anche ammettere che sono una cellula non scissa però va bene così va bene così come cellula non scissa uno ha la sua strada poi quando giro un film anche quelli che avete visto per la televisione me ne guardo bene da girare un film come gira Olmi cioè con la tecnica di Olmi anche perché Olmi in una ventina di film che ha fatto cambia sempre modo di raccontare le cose cioè non c'è mai un film raccontato uguale all'altro film che ha fatto prima e questo è il bello di stare vicino a una persona così e stare vicino a queste persone che poi incontrate appunto nel film della felicità umana che è un film vero nel senso che alle parole mescola bellissime immagini immagini toccanti immagini emotive immagini di grande felicità e di grande tristezza anche di tragedie e mescola una colonna sonora che sottolinea alcuni passaggi insomma non si può non emozionarsi oltre che riflettere e pensare quando si guarda il film di Zaccaro l'intervento di Latouche parte da Cesare Beccaria parte da Cesare Beccaria e questo anche diciamo campanilisticamente come italiani ci fa piacere un pensatore che ha inaugurato un nuovo modo lei parla proprio di modernità però a me veniva in mente quando si parla di rapporto tra economia e felicità una frase di un film abbastanza recente The Wolf of Wall Street a un certo punto Di Caprio in queste sue prediche che fa i suoi venditori per caricarli per farli vendere sempre di più e guadagnare sempre di più dice voglio che voi diventiate ricchi per diventare felici ecco questa è stata per esempio un po' la promessa anche che ha fatto Berlusconi a tutti gli italiani ecco ed è la promessa che lei chiama della modernità sì e allora per iniziare devo dissipare un'ambiguità che lei anche mi ha presentato come teorico della decrescita felice non ho mai usato la parola decrescita felice serena sì la decrescita felice è una battuta labellizzata dall'amico Maurizio Palante perché non ho usato la parola decrescita felice perché per me la felicità che sembra per tutti una cosa transistorica universale no è una cosa che è legata alla modernità occidentale e dunque la felicità è legata alla società della crescita e per questo la prima cosa che dico nel film non è questa di Beccaria è quella del rivoluzionario francese Saint-Just che dice un mese prima di essere decapitato lui dice il bonheur è un'idea nuova in Europa che sarebbe la felicità è una idea nuova in Europa come si può dire una cosa così allora si deve capire che la felicità effettivamente è una idea nuova era un'idea nuova nel diciottesimo secolo in Europa perché perché prima non si parlava di felicità si parlava come quando nel film c'è un bel passaggio nel film di queste suore queste suore ma queste suore che cosa ricercano cercano la beatitudine per secoli c'era la beatitudine che è piuttosto una gioia dell'aldilà una gioia collettiva si può pensare alla battuta dei remiti o beata solitudo o sola beatitudo e allora cosa succede con la modernità che passiamo dal cielo alla terra è più più forte in francese le parole sono importanti come l'ha detto ieri nostro poeta Valerio Magrelli molto importante in francese c'è bonheur happiness bonheur sarebbe buonora ma abbiamo anche la parola felicità che sarebbe felicità ma non è quella la felicità è un po' una parola ambigua tra la beatitudine celeste e happiness terrestre e perché per esempio si parla al medesimo tempo che beccaria c'è un grande teorico napoletano Antonio Genovesi Antonio Genovesi l'economia civile e lui parla della felicità ma quando parla della felicità dice sempre felicità pubblica non dice felicità individuale personale come lo diranno i pensatori anglosassoni allora con il bonheur happiness passiamo dal cielo alla terra diventa una la felicità diventa una cosa materiale e individuale in una in una società comunitaria come anche le società amerindiane non si parla di felicità si parla di buon vivir vivere bene hanno tutti un sacco di parole anche quando ero in Africa i po il popolo di elevatori hanno la parola bantare significa essere bene insieme perché la felicità tra virgolette ciò che chiamiamo la felicità per loro è il fatto di essere bene con i vicini di avere rapporti buoni nella famiglia con tutti anche con anche con la natura anche con le bestie con gli animali perché per loro per un po' la mucca fa parte della famiglia è una cosa importantissima tutto questo si vede che nel diciottesimo è la nascita dell'economia dell'economia politica non a caso l'opera diciamo fondatore ufficialmente è la ricchezza delle nazioni di Adam Smith si parla della ricchezza allora non si tratta ricchezza delle nazioni come lo dico nel film non si tratta di arricchire prima prima si voleva la ricchezza era la ricchezza del del rogione reale regno del regno e si vede che Luigi quattordicesimo per esempio è molto rappresentativo con il palazzo di Versailles tutto il popolo si si rappresenta nella nella felicità del re nel questo così si identifica si identifica che il re nostro re ha un palazzo più bello che il re di Spagna questo era era così no con allora come l'aveva detto il filosofo Voltaire con il suo cattivo spirito diciamo lui diceva per secoli i popoli hanno ragionato sulla grazia la grazia che viene dal cielo si sono stancati di ragionare sulla grazia hanno cominciato a ragionare sul prezzo della grana e effettivamente con l'economia si ragiona ma allora questo è un cambiamento totale e a questo punto viene la battuta di Beccaria che l'obiettivo del buon governo si parla a questo tempo del buon governo l'obiettivo del buon governo è di realizzare la massima felicità che è il massimo benessere per tutti e si vede che si capisce che così passiamo naturalmente dalla felicità più grande per tutti al più grande prodotto interno lordo a capite sono belli i giochi che fa la lingua i giochi che fa la traduzione da una lingua all'altra perché le bonheur è maschile in francese la felicità ma appunto la grana voleva essere il grano e acquisisce in italiano subito un altro significato perché la grana è ben più economica al giorno d'oggi del grano la grana è un modo gergale per chiamare i soldi i quattrini il denaro appunto Zaccaro è stato citato Voltaire però lei racconta che l'idea di questo film è un'idea che è partita da molto lontano quando lei era un ragazzo ed è partita da una citazione di un altro filosofo se ho letto bene sì che è Bertrand Russell era un libricino che avevo trovato in queste edicole delle stazioni abitavo nella periferia di Milano quindi andando a scuola passavo sempre di lì il libro era La conquista della felicità di Bertrand Russell e è un libro piccolo fra l'altro 150 pagine 160 pagine non di più ma c'è stata una frase dentro questo libro che poi dopo man mano ha sedimentato dato un po' insieme a questo progetto ed è appunto che noi dovremmo staccarci dal guardare sempre noi stessi e guardare invece gli altri nella nostra vita e su questa battuta un po' io ho costruito il film pezzo per pezzo ci sono voluti tre anni per girarlo con un riferimento costante però a queste persone che sono certo sono dei filosofi sono degli studiosi sono preparati più di me oltretutto a raccontare sono legittimati più di me a raccontare questa storia della felicità io sono un regista non un filosofo al massimo faccio una sceneggiatura quindi non scrivo neanche un libro ecco sono lavori diversi e a Gavoi c'è un aneddoto molto particolare a Gavoi adesso mi ricordo bene se è stato nel 2010 o nel 2011 eravamo qui con Olmi e stavo già accarezzando l'idea di raccontare questa storia di trasformarla in un film e proprio qui a Gavoi ne abbiamo parlato e poi dopo successivamente Olmi quando ha visto il film ha ribadito questo concetto e la frase sua è molto particolare che riporta poi anche a un po' la filosofia di Russell insomma in poche parole ma io non capisco come tu possa fare a raccontare un film sulla felicità umana o meno sempre felicità si parla perché per me la felicità è un grande inganno è come guardare il sole allo zenith e quando guardi il sole allo zenith abbassi lo sguardo tutto quello che hai intorno improvvisamente è bianco abbacinante cioè perdi il contorno delle cose e di conseguenza è tutto un grande inganno e questo inganno è alla base anche della filosofia di Russell cioè l'economia come interferisce sulle nostre vite oggi e come fa uno a essere felice allora io lì sono passato da un discorso di felicità ad un discorso di infelicità perché nel nuovo millennio le cose sono un po' cambiate non c'è più lo scontro fra comunismo e capitalismo c'è invece uno scontro ben preciso che in questi giorni in questo periodo sta raggiungendo il suo apice che è fra un sistema chiuso e un sistema aperto che è diverso dal comunismo al capitalismo e allora questa cosa cosa vuol dire vuol dire che uno si deve porre una domanda fondamentale del perché noi non siamo felici e quindi ribalti un po' questo concetto e quindi l'infelicità si basa sulle nostre debolezze le debolezze arrivano a darci una sensazione di come posso dire di insicurezza l'insicurezza ci dà un'ulteriore sensazione di pericolo il pericolo sviluppa la paura la paura cosa fa chiede protezione e di conseguenza ecco l'inalzarsi dei muri delle barriere di tutte queste cose e il film sulla criticità umana questo racconto oltretutto a proposito di linguaggio e di elefante Latouche come ho già avuto modo di dire io insegno storia della lingua italiana e quindi l'elemento della lingua scatena parecchie connessioni c'era un esperimento che faceva George Lakoff a proposito dell'elefante e del potere che ha il linguaggio su di noi e del potere che il cervello ha di condizionare la nostra percezione di là da una riflessione razionale l'esperimento che faceva Lakoff con i suoi studenti era questo non pensate a un elefante mi raccomando non pensate a un elefante vi ho detto assolutamente di non pensare a un elefante a cosa state pensando e infatti funziona sempre per questo è un esperimento meraviglioso intendo dire che esiste un forte condizionamento culturale Latouche lei lo denuncia per cui anche quando noi parliamo di sviluppo sostenibile stiamo dicendo di non pensare a un elefante ma rimaniamo nell'ambito di quello che lei ha chiamato un colonialismo culturale ecco vorrei che lei ci parlasse un po' di questo aspetto sì allora parlo della colonizzazione dell'immaginario siamo effettivamente il problema oggi che siamo con la globalizzazione c'è l'occidentalizzazione del mondo e ora l'occidentalizzazione del mondo è arrivato al punto ultimo tutto il mondo è occidentalizzato oggi e questa occidentalizzazione del mondo ci porta a una cosa terribile a un suicidio culturale e anche a un suicidio reale per detto culturale perché il sottotitolo del libro l'occidentalizzazione non a caso si chiama saggio su l'omologazione planetaria e era in 1989 ma già era molto avanzato ma oggi molto di più questa omologazione planetaria e che vuol dire lo sterminio di tutte le differenze si vede oggi che tutto il mondo è più o meno dominato dalla c'è la forma si parla di coca coca collalizzazione del mondo o mcdonalizzazione del mondo e al medesimo tempo tutto questo sistema è basata allora si pensa che l'economia occidentale l'economia capitalista l'economia di mercato della società del consumo è basata prima si diceva dal tempo di Adam Smith sul lavoro poi oggi si dice piuttosto sulla tecnica su tecnologismo ma il lavoro si vede che ora il lavoro possiamo fare a meno la tecnica ma la tecnica i i vecchi greci i greci del terzo secolo prima cristo a alessandria avevano una conoscenza tecnica fantastica avevano eravano capaci di fare delle macchine molto sofisticate se andate a Atena al museo archeologico c'è una sala dedicata alla macchina di Antichitera ma potete ritrovarla su internet è una macchina trovata una nave nel nel terzo secolo prima cristo che si è affondato contro una roccia che si chiama Antichitera e hanno trovato un sacco di statue dopo il naufragio e un blocco di ingranaggi e poi poco a poco si è trovato ha studiato per molti sensati li hanno studiati e hanno dicono si è presentato come un computer dell'antiquità una macchina molto sofisticata si dice ma com'è possibile che i vecchi greci conoscevano tutto questo anche si sa che conoscevano anche la macchina a vapore eccetera ma non si faceva niente perché tutte le macchine più sofisticate del mondo hanno bisogno di una cosa essenziale l'energia e l'energia per i latini per i greci era la forza del muscolo quello degli schiavi anche quello dell'asino un po' il vento ma non porta a molto e effettivamente per secoli secoli non ha portato a molto cosa è successo è successo questo non si parla mai nei manueli scolastici questa rivoluzione del termocapitalismo termo il calore la macchina le macchine a fuoco e questo la prima la macchina a vapore poi il motore a scopio e questo è una vera rivoluzione perché perché permette di sfruttare un dono della natura che non è prodotto dal lavoro né dell'ingegnosità umana il carbone le miniere di carbone e dopo il petrolio come e allora contrariamente a ciò che si dice la prima rivoluzione industriale o la seconda o la terza non è il frutto del genio umano è il frutto della capacità dell'uomo di predare la natura siamo dei predatori predatori del carbone e predatore del petrolio ma anche di tutte le risorse naturali non rinnovabili come dice un esperto americano del petrolio Richard Heinberg la crescita è uscita dei pozzi di petrolio e finirà con l'oro e per questo che è finita l'immagine l'immagine del del relitto sopravvissuto al naufragio fa venire in mente molte immagini che sono nel film di Zaccaro perché quando noi parliamo di ricerca della felicità parliamo sì di un concetto filosofico di un concetto interiore questo soprattutto per quanto riguarda però il nostro mondo il mondo del benessere in cui appunto siamo infelici e non riusciamo neanche bene a spiegarci il perché ma c'è una ricerca della felicità che passa attraverso il viaggio della speranza è un viaggio che spesso si trasforma in una tragedia il Mediterraneo sta diventando una specie di cimitero questa è una cosa tragica davvero degli ultimi degli ultimi anni Zaccaro lei parte sì da Russell ma nel film c'è una frase di Papa Francesco cercavano solo la felicità a proposito dei migranti sì beh certo sono dieci secondi montati clandestinamente perché avrei dovuto chiedere i diritti ma dieci secondi insomma si possono prendere ed è un discorso che si aggancia ad una delle poche interviste che sono io non ho mai viste di interviste ad uno scafista e dentro la felicità umana sono riuscito in un modo un po' miracoloso anche a parlare con questo personaggio che è pagato per portare questo barcone di migranti a Lampedusa e da lì poi mi sono attaccato lui fa una serie di considerazioni diciamo che è uno scafista particolare tra virgolette è uno scafista buono perché quando poi resta si accorge che resta senza benzina inverte la rotta e torna indietro a Zuara e in quel momento ci sono appunto una serie di considerazioni su quelli che poi Quirico l'altro giorno ne ha parlato benissimo l'ha descritta bene questa situazione del viaggio del migrante verso il paese più felice del mondo io dalla voce del Papa poi mi attacco chiaramente ad un'immagine come posso dire provocatoria quando uno sbarca all'aeroporto di Copenaghen al ritiro bagagli dell'aeroporto di Copenaghen c'è scritto c'è una frase al neon enorme che dice benvenuti nel paese più felice del mondo peraltro c'è anche un marchio che lo accompagna a proposito di McDonaldizzazione c'è un marchio di una birra internazionale danese che dice benvenuti nel paese più felice del mondo allora uno lì si pone anche il problema di dove è capitato dopo tutto sto viaggio che ha fatto come Quirico diceva il coraggio di fare questo viaggio che dura cinque anni che annulla anche la tua identità oltretutto perché quando viaggi per cinque anni parti dall'Afghanistan arrivi in Denimarca ti trovi vabbè quello che arriva in Denimarca non vede la scritta perché non arriva in aereo però il clima danese è un po' quello insomma del paese più felice del mondo e i danesi come se vi ricordate bene poco tempo fa sono stati i primi a chiedere la revoca del trattato di Schengen oltretutto di conseguenza tutti si fermavano al confine di Puttgarden in Germania e non riuscivano ad andare a Rob di Aon che era la città davanti in Denimarca queste storie ve le ricordate ecco e di conseguenza il viaggio anche il film che sto posso dirlo quello che sto preparando adesso oltretutto ricalca un po' questo percorso è un film che stiamo scrivendo con De Silva che è qua ospite non so se è qua presente fra l'altro è con un'altra scienziatrice Monica Zapelli è tratto dal libro di Pietro Bartolo che se vi ricordate è il medico di Lampedusa di fuoco a mare e di conseguenza lui ha scritto questa sua visione appunto dell'immigrazione questo suo contatto con le persone siamo andati a Lampedusa ad incontrarlo abbiamo visto delle situazioni tesissime a Lampedusa ma due mesi fa non di più e da lì io mando avanti un po' questo discorso come nel film ci sono del resto dei frammenti di un film che avevo fatto in precedenza uno dei primissimi film sull'immigrazione che è l'articolo 2 della Costituzione italiana ecco questo è un po' il percorso che poi ti porta a legare quella che è quella che viene definita la filmografia che uno cerca sempre di mandare avanti un discorso pur nelle complicazioni perché per esempio sul libro di Bartolo che è tutto impostato sul discorso verso appunto i migranti hai delle sollecitazioni di tipo sì però facciamo lì del poco e allora lì a quel punto uno si pone anche delle domande su cosa sta facendo e anche lì c'è il cimitero il cimitero delle barche a Lampedusa a Lampedusa c'è il cimitero delle barche che fra l'altro ci servirebbe moltissimo per una sequenza molto hot diciamo che il nuovo sindaco vorrebbe rimuovere la rimozione è uno dei modi in cui spesso noi affrontiamo questo tipo di problemi il cimitero di barche è un cimitero che sta sopra proprio sopra l'isola di Lampedusa non sta sul mare uno potrebbe pensare che il cimitero di barche sta sul mare invece no tutti i barconi le barche i gommoni compresi i vestiti che c'erano sopra le scarpe gli indumenti abbandonati i giochi dei bambini stanno nella terraferma in un luogo vicino ad una caserma americana abbandonata ad una base americana abbandonata di Lampedusa ma stanno molto in alto rispetto alle scogliele perché non si è mai detto che qualcuno si riprende queste barche le rimette in mare e le riusa un'altra volta ma secondo me sono destinate ad un ruogo tipo i roghi di San Giuseppe con le barche prima o poi succederà questo e Bartolo Pietro Bartolo si sta dedicando appunto a trasformare quel luogo in una sorta di museo permanente dell'immigrazione museo della memoria della memoria d'elefante per l'appunto c'è una una sequenza in cui si sente la voce di Bob Kennedy che parla del PIL lei Latouche diceva che poi tutta questa riflessione illuministica ci ha portato a identificare la felicità pubblica con il PIL ed è un discorso molto retorico molto ben costruito con un crescendo siamo nel 68 in cui nel 68 Bob Kennedy anche perché poi non è sopravvissuto molto a lungo dopo lui a uno a uno smonta tutti gli aspetti del PIL il PIL non comprende questo il PIL non comprende quello non comprende l'amore per le nostre famiglie non comprende il tempo libero non comprende le nostre risate in poche parole lui conclude il PIL esclude tutto ciò per cui vale la pena vivere allora la domanda è ci sono dei parametri oggettivi economici della felicità esiste una felicità oggettiva misurabile economicamente Serge Latouche no perché la felicità è un concetto ideologico come è nato con l'illuminismo si è tradotto in una prima fase con economica sul piano economico con il PIL è interessante che ancora nel primo dopoguerra un grande economista olandese che è stato nobelizzato Jan Timbergen Jan Timbergen diceva non si deve parlare di prodotto interno lordo si deve parlare di felicità interna lorda la cosa che è anche piacevole è che c'è un paese ha ripreso questa l'idea della felicità interna l'orda che è il butan il re del butan dice non dobbiamo cercare di avere il più grande prodotto interno lordo ma vogliamo la felicità interna lorda più forte perché nel frattempo si è scoperto ciò che Robert Kennedy infatti non è Robert Kennedy che ha fatto questo discorso il discorso è stato fatto dal suo esperto economico John Kenneth Galbraith lui l'ha letto bene famoso l'ha firmato ma è e allora effettivamente gli economisti si sono da questo tempo perso che contrariamente a ciò che pensava o diceva Jan Timbergen il prodotto interno lordo a capita non significava la felicità interna lorda ci sono molti lavori anche nel film si vede il più grande esperto penso della felicità economica Stefano Bartolini che ha fatto il manifesto per la felicità dove nel suo libro c'è tutte le referenze agli studi americani soprattutto ma anche che sono quello il paradosso di Easterlin che credo che è stato anche lui nobilizzato che dice non c'è un legame tra il prodotto interno lordo e il subjective well-being la felicità eccetera e poi c'è anche si deve dire due cose su questa scuola italiana che si riallaccia alla tradizione di Antonio Genovesi dell'economia civile che chiamiamo qualche volta l'economia della felicità economia civile sono legati sono legati a Stefano Zamagni più o meno Stefano Zamagni e poi c'è Luigino Bruni Lorenzo Becchetti Benedetto Gui e Stefano Bartolini e tutto questo ne hanno dimostrato che effettivamente ora la modernità che ci aveva promesso la felicità come queste felicità benessere terrestre individuale finalmente ha tradito doppiamente questa promessa perché non è stata la felicità per tutti se non tutti questi del terzo del sud del mondo non cercherevano a venire in Europa dove non abbiamo realizzato la felicità per tutti e di più anche nei paesi tra virgolette ricchi si vede che abbiamo dei problemi malattie psichiche stress burnout un sacco di problemi problemi generati dalla crescita senza parlare delle malattie generate dall'inquinamento dell'aria dell'acqua della terra allora proprio a questo non ho risposto alla domanda infatti che se c'è allora no non c'è un indice della felicità perché la felicità effettivamente è un sentimento interiore è una forma di gioia che può essere naturalmente la conseguenza parzialmente di un benessere materiale ma non basta i beni relazionali che come si dice nel film sono così importanti come nel film ricordo questa esperienza dell'ex ministro di Clinton Robert Reich Robert Reich che si è perso che più guadagnava denaro in famiglia meno andava bene perché aveva perduto il contatto con i figli con la moglie eccetera a un certo punto ha avuto il coraggio di demizionarsi del suo posto per dedicarsi un po' di più alla famiglia perché si vede che la crescita fa aumentare una delle componenti della felicità tra virgolette che è la quantità del reddito ma al medesimo tempo distrugge l'altra componente della felicità che sono i beni relazionali allora per questo c'è un istituto britannico che si chiama The New Economics Foundation che hanno calcolato un indice interessante che è The Happy Planet Index e allora ma è fatto da tre indici che sono la speranza della vita alla nascita perché se la speranza della vita è bassa va detto che la società non è molto felice l'impronta ecologica perché se l'impronta ecologica non è sostenibile allora va detto che qualcosa non va bene perché la società non ha futuro e la terza è questo subjective well-being sentimento di felicità che è valutata attraverso una serie di inchieste di domande eccetera se la gente per esempio i francesi sono al livello più basso su questa cosa vedete che quando si chiede ai francesi siete felici dicono no meno felici dei loro parenti eccetera allora gli economisti si arrabbiano dicono i francesi hanno torto devono essere felici perché sono ricchi devono essere felici ma non sono felici questo è il paradosso il dovere della felicità e allora il risultato che è interessante che è una vera provocazione per i colleghi economisti è che i paesi cosiddetti più felici non sono il Danimarco come si pretende sono il Vanuatu perché nel Vanuatu dove c'è il sole fanno l'amore piuttosto che la guerra e la gente balla sono contenti poi il Costa Rica e poi la Colombia anche forse per causa della droga non si sa una via artificiale alla felicità e poi arriva all'ultimo rango quasi quasi al medesimo rango l'Algeria e gli Stati Uniti 166 eccetera l'Italia più o meno un po' meglio un po' meglio ma allora è molto interessante perché vedete che anche se è contro intuitivo si è contro intuitivo in rapporto a quest'ideologia economica di cui siamo tutti infettati perché siamo colonizzati dell'economia e al medesimo tempo per esempio tutti direvano che viviamo in una società d'abbondanza affluent society anche in una società dove c'è la precarietà c'è 50% dei giovani che sono disoccupati eccetera e questo l'abbondanza no è una società di frustrazione ma perché c'è questo spreco gigantesco allora e questo anche questo i scaffali dei supermercati che sono pieni di prodotti eccetera allora c'è lo spettacolo dell'abbondanza ma l'abbondanza reale non esiste e per una ragione semplice una ragione semplice che conoscono bene i pubblicitari che per far consumare la gente si deve rendere la gente infelice i popoli felici come nel Vanuatu consumano poco invece quando la gente non è felice allora cerca di compensare consumando se può consumare consuma ma non è per niente felice se non può è ancora più frustrato allora la pubblicità la pubblicità che è il motore della società dei consumi è basata sul fatto di renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo per farci desiderare ciò che non abbiamo allora siamo condannati a essere sempre insoddisfatti e anche è una forma di cretinismo generalizzato che fa che ci sono ci sono alcuni che sono capaci di passare la notte davanti al negozio per essere sicuri l'indomani di avere l'ultimo modello dell'iPad eccetera una cosa incredibile devo confessare a proposito di intossicazione che questa mattina non mi si è acceso l'iPhone e davvero sto capendo quanto tutto questo ci ha reso dipendenti credetemi è un momento di panico che ormai si prolunga da qualche ora anche quello di Maurizio non si accende allora abbiamo capito che la tush sta cercando di disintossicarci sabotando i nostri telefoni bisogna bisogna cominciare da qualche parte per rieducarsi e riabituarsi mi veniva in mente che allora già che ci siamo a proposito del Bhutan per ribellarci al prodotto interno lordo più che la felicità interna lorda potremmo puntare direttamente alla felicità interna netta pulita senza compromessi senza se e senza ma l'ultima domanda perché ormai è l'una a Maurizio Zaccaro abbiamo detto la felicità è qualcosa di profondamente soggettivo di difficilmente misurabile è qualcosa che nel mondo si trova senza che ci sia una logica economica dietro allora tu sto alternando il tu e lei ma insomma chiudiamo sul tu hai avuto modo di girare molto per questo film sei entrato nelle case hai viaggiato tra continenti diversi appunto anche in situazioni completamente diverse penso proprio alle sue ore del convento di clausura dov'è proprio attingendo la tua esperienza personale la tua sensibilità dov'è che hai sentito di più vibrare una sensazione un sentimento di felicità o quando è che l'hai sentito nell'aria tu parli delle persone nelle scene del film di tutto quello che la tua esperienza ha incluso per arrivare a quel film ma guarda io mi sono accorto mi sono accorto girando appunto incontrando tutte queste persone che spesso e volentieri queste persone parlando di felicità andavano fuori tema e di conseguenza mi sono posto anche questa domanda ma perché vai fuori tema no? se stiamo parlando di felicità e tu improvvisamente parli di altre cose e poi avevo capito cioè se parli di felicità parli di tutto quello che ti circonda parli di economia parli di mercato parli di potere parli di no? della gestione del potere da parte di chi il potere ce l'ha e di conseguenza io mi sono trovato di fronte anche a personaggi Latouche no Latouche è sempre stato al centro del discorso è rimasto nel tema è stato un buono scolaro non è mai andato fuori tema lui ecco però altre persone sì e la risposta è stata questa poi ci sono stati anche momenti in cui non lo so la mia percezione di felicità è chiaro che è una percezione allineata su quello che è un po' un discorso che non è tanto nelle parole di Latouche quanto di una persona che mi sarebbe piaciuta incontrare ma purtroppo non ho fatto in tempo di incontrare che è Tiziano Terzani e questa persona è qui che si usa a voi proprio centelinare lavorare sulle parole nelle varie documentazioni perché per fare un film sulla felicità non è che lo fa così si informa si documenta cerca dei materiali e c'è un frammento lo potete vedere tutti su Youtube di Tiziano Terzani che è molto particolare perché lui lavora su un concetto su una parola e dice semplicemente che in italiano esiste una parola che è molto più bella di felicità e questa parola è contentezza ecco io credo che per essere felici oggi dovremmo un po' capire quello che è il significato che Terzani voleva dare a questa parola di contentezza cioè il saperci accontentare di quello che abbiamo senza poi pensare che l'iPhone 7 è migliore dell'iPhone 5 perché ve lo dice uno che la pubblicità poi ha anche fatta alla base di tutto il discorso della pubblicità delle agenzie che fanno pubblicità degli spot che vedete in televisione c'è sempre un grande a parte che sono fatti a prova di imbecille come si dice quegli spot però il concetto fondamentale del pubblicitario è quello di far passare di moda immediatamente quello che avete appena comprato ecco è questo quello che diceva Serge Latouche sì allora perché Maurizio ha parlato di Tiziano Terzani mi veniva in mente che devo fare anche la mia pubblicità che da tre o quattro anni ora ho fatto una collana in Francia è uno solo per fortuna in Italia in Italia sui precursori della decrescita c'è qua si trova il libro sintetico che è intitolato è l'editore che l'ha intitolato così ma l'ha intitolato felicemente che direi la decrescita prima della decrescita precursori e compagni di strada e tra questi precursori c'è Tiziano Terzani effettivamente allora ci sono una collana di piccoli libretti dove c'è una perché quest'autore è un precursore e poi ci sono dei testi scelti dell'autore allora c'è un libro su Terzani Tiziano Terzani verso la rivoluzione della coscienza e penso che per ciò che tu dicevi su Terzani effettivamente lui era più o meno legato alla tradizione di Gandhi e anche Schumacher il piccolo e bello parlano di economia buddista e nell'economia buddista effettivamente la contentezza è la cosa più importante ma ci sono anche molti altri diversi nella collana come Pasolini Pierpaolo Pasolini che anche per noi è una sorgente di ispirazione ma Tolstoi anche vorrei dire due uno purtroppo troppo dimenticato il fondatore dell'ecologia politica in Italia che è Alex Lang E poi perché non si deve dimenticare l'altra meta del cielo le donne poi c'è Laura Conti che ha fatto la battaglia su Seveso eccetera allora ci sono qua già undici libretti su questi precursori l'ultimo che è appena uscito e non l'ho ancora letto e su Aldo Suxley anche fatto da Vita Fortunati che è un grande esperto della letteratura anglosassone e che appena appena è uscito allora tutto questo per dire che c'è effettivamente tutto un legame tra tutti questi un legame che fa sì che sembra che c'è l'ideologia dominante che l'ideologia della crescita del progresso questo che è nata nell'illuminismo e ma nella storia umana la più grande parte dei pensatori non sono stati adoratori del progresso e della crescita sono tutti i più grandi dall'inizio ho parlato del buddismo ma dal buddha ma tutti i grandi tutte le tradizioni amerindiane abbiamo citato il buon vivere degli amerindiani c'è la saggezza africana eccetera e poi i nostri anche i nostri pensatori da Diogene Epicuro eccetera hanno trasmesso questa idea che la felicità non o diciamo il vivere bene o il sentimento di fare su questa terra una vita bella non viene dalla quantità dei beni ma viene della capacità di essere soddisfatti di ciò che abbiamo senza andare alla radicalità di Diogene che un giorno Diogene ha visto un bambino che beveva tra le sue mani l'acqua nelle mani allora lui ha preso il suo bicchiere e l'ha rotto non ho bisogno di un bicchiere si può fare a meno sicuramente si può fare a meno di un cellulare di una macchina di molte cose di un bicchiere no perché per gustare un buon vino sardo si doveva avere un bicchiere allora grazie a Serge Latouche grazie a Patrick Lemasson che oggi davvero è stato un po' frustrato ma è stato fondamentale nella nostra giornata nel nostro incontro grazie a Maurizio Zaccaro l'appuntamento è alle 16.30 alle 4.30 in sala parrocchiale per la proiezione del film La felicità umana però a proposito di vino c'è una tradizione che abbiamo cominciato qui la frase storica il verso da portarci a casa alla fine dell'incontro felicità è un bicchiere di vino con un panino Albano e Romina Power grazie buon festival a tutti scusate un attimo un attimo non andate via perché voglio che ringraziate Giuseppe Antonelli che ha mantenuto sto spazio avete chiuso gli occhi e vi siete sentiti su Radio 3 meravigliosamente grazie Giuseppe veramente allora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.